Sfincia Festa è stato un successo, purtroppo c'è stato un finale triste per il lutto e approfitto di fare pubblicamente le condoglianze all'amico Vito Castiglione che ha perso la moglie proprio nell'ultima serata e comunque si deve dare merito a questa associazione e anche alla struttura comunale che l'appoggia in tutto e per tutto e nelle strutture perché abbiamo realizzato attorno a questo momento gastronomico, su questo dolce che è la Sfincia, molto bello anche a vedersi questa sambellina dorata un momento di attrazione, anche di momento turistico, di condivisione, di gastronomia, una bella festa insomma e abbiamo appena archiviato la Sfincia Festa e già è iniziata sabato sera la settimana dello sport con tutta una serie di iniziative e di eventi che riguardano soprattutto l'animazione sportiva nelle spiagge, ecco perché questa settimana prevede un'animazione che si fa anche di mattina, nel pomeriggio e poi sempre spettacoli serali, sempre un po' di gastronomia, insomma rendere Vivo Cornino il più attraibile possibile dal punto di vista dell'utenza turistica che si trova in zona e mi auguro di una nuova utenza che possa anche venire in occasione di questi eventi.